Al lavoro il soccorso alpino di Asiago ha allertato oggi pomeriggio intorno alle 14.20 dal SUEM la chiamata è arrivata per un operaio colpito da un tronco mentre era impegnato a Campomulo nella polizia dei boschi devastati da Vaia. A causa dell'urto il boscaiolo residente a Roana ha riportato probabili traumi al torace e al ginocchio. Una volta raggiunto dai soccoritori del personale del SUEM località Brustola l'uomo è stato stabilizzato, imbarellato e trasportato a piedi fino alla jeep del soccorso alpino. Da lì è stato accompagnato alla rifugio Campomulo dove lo attendeva l'ambulanza diretta verso l'ospedale di Bassano.